buongiorno e soprattutto che cosa proponi ai tuoi clienti buongiorno un pomeriggio siamo qui a Rivalta sul cantiere della nuova filiale di Rivalta ho detto sbagliato sei già partita secondo me schiacciami l'uovo vai no aspetta hai già partita secondo me no allora riparti perché devi partire giusto oggi siamo presso la filiale no come siamo messi? a che punto siamo qui i lavori? beh diciamo che non va proprio male eh no niente lo so chiuso a dire adesso oggi presentiamo la filiale di Reggio Ovest presso il centro direzionale Polo e sono qui tra i miei colleghi qui siete non vi facciamo ancora vedere i suoi interni perché sono ancora in un work in progress importante nel frattempo passano camion non mi suggerirei tutto sconti più che lo fio con il frattempo telecamera avvicinati quindi mi raccomando io vi invito a venire a trovare Stefano e tutto il personale che devo dire straordinario è finita? no 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 Grazie a tutti.